Lo scorso 21 maggio 2018 il Comune di Battipaglia ha avviato le attività di pubblica utilità dette APU, avente come referente del progetto l'ingegnere Carmine Salerno. Il progetto APU è una misura di politica attiva per ex precettori di ammortizzatori sociali privi di sostegno al reddito, iniziativa intrapresa dalla Regione Campania con fondi europei. Tra le varie attività previste dal progetto figurano giardinaggio, pulizia, viabilità. È stata l'idea dell'assessore Carolina Vicinanza di convocare, presso il Palazzo di Città, la responsabile del progetto APU, sezione Casa Comunale Anna Maria Casanuova, e Gaetano Cava, responsabile del progetto APU, sezione Cimitero. A partecipare all'incontro i responsabili della società Alba, settore igiene, Antonio Dell'Aglio e Paolo Vivolo, impiegato comunale, gestione risorse APU, sezione Archivio. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di creare una sinergia tra la società Alba e i lavoratori del progetto APU, dichiara Carolina Vicinanza, allo scopo di ottimizzare risorse e tempi e programmare interventi nei quartieri di Battipaglia, che più di altri presentano criticità e carenze sotto il profilo del degrado ambientale, cumuli di rifiuti su strada e marciapiedi, aree a verde in stato di incuria e abbandono e decoro urbano. Snocciola le zone di intervento, zona Serroni, Belvedere, Rione Turco e così via, e mia intenzione in accordo con la sindaca Cecilia Francese intervenire sull'intero territorio comunale e di programmare un piano di intervento sistematico e continuativo, fino a quando saranno disponibili le risorse legate al progetto APU, con l'ospicio di poter attuare questo tipo di iniziative anche in futuro.